L'ex presidente del Consiglio torna a chiedere che Angela Merkel prenda in mano le redini della diplomazia con Mosca. L'invio delle armi. Non serve a vincere la guerra. Ne lo faranno le sanzioni decise dall'Occidente. Ne è convinto Matteo Renzi, che oggi in un'intervista a Repubblica commenta quanto sta accadendo in Ucraina. L'invio di armi a Kiev e le sanzioni alla Russia, per Renzi, servono come gesti di solidarietà, ma non a vincere la guerra. Unanimi e, senza attenuanti, devono essere le condanne, verso l'aggressore, la Russia di Putin. Ma contemporaneamente tenere aperto il dialogo è un dovere politico. Spiega l'ex premier, che il 24 febbraio scorso, nel giorno dell'invasione di Mosca all'Ucraina, si è dimesso dal board di Delimobil, la principale azienda russa che fornisce servizi nel car sharing fondata dall'imprenditore italiano Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italo-Russa. La guerra si ferma con i negoziati, non con i tweet. Putin non è improvvisamente impazzito, guai ad assecondare tale lettura superficiale, Putin sta cambiando la geografia del mondo, spostando il baricentro a est. È immorale ma non è un morale. Sfida l'Europa perché ha un patto con la Cina, l'India e molti paesi africani. Per questo bisogna che la reazione sia politica, dice ancora nell'intervista. E ripete nuovamente quella che è già stata una sua proposta in questi giorni, chiamare l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel a mediare con il presidente della federazione russa. Io dico che Nato e UE devono trovare una risposta unitaria altrimenti il nuovo ordine geopolitico mondiale ci taglierà fuori a lungo, dice Renzi. Serve un nuovo progetto, difesa comune, energia, identità culturale. E serve tanta tecnologia. Credo che la Merkel sia la più autorevole tra le personalità istituzionali per svolgere questo ruolo. Macron e Draghi si stanno muovendo bene ma serve un salto di qualità politico anche a Bruxelles. Più politica e meno burocrazia. Sul piano economico, per il leader d'Italia viva Putin. Immagina di diversificare i clienti del suo gas e guarda a est e a sud convinto come di aver chiuso per anni con l'ovest. E il problema per noi è proprio l'energia. La strategia del no a tutto degli anni scorsi, su cui anche il mio governo fu massacrato dopo lo sblocca Italia, oggi ci presenta il conto. Grazie a tutti.